Quello che vedete è quanto normalmente accade al porto di Trani di sera, ancora più di notte. Scene come queste ormai quasi non fanno più notizia, ma la sensazione di irrisolvibilità del problema si sta crescendo in misura direttamente proporzionale alla trasformazione di alcuni luoghi. Piazza Quercia prima, il basolato stradale poi, infine in marcia a piede sottostante Palazzo Quercia. E qui, come dimostrano le immagini, l'area di cantiere non è più protetta da alcuna recinzione. Quello che però destra sconforto è il disordinato traffico veicolare, un ammasso di lamiere in mezzo alla solita marea umana, con auto in marcia che danneggiano auto parcheggiate e pedoni da sempre danneggiati dalla incapacità di porre fine a questo indecente spettacolo.